La scelta del direttore di Giosia di riservare all'ex Ravasco le funzioni di hospice va esattamente in questa direzione. Abbiamo bisogno di affrontare quello che è il dramma delle cure palliative, delle fasi terminali della vita in una maniera che dia anche ulteriore senso ad una ricostruzione che nel caso che stiamo trattando questa mattina ha dimostrato di essere frutto soprattutto di grande coesione istituzionale. I rapporti fra la ASL, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione e più in generale la Regione e la struttura commissariale depongono in favore di questa idea che ovvero finalmente si è impresso un cambio di passo alla ricostruzione. Chi presidia la salute deve poter garantire non solo l'efficacia e l'efficienza che il sistema pubblico non può non avere ma indica delle traiettorie, degli obiettivi. Noi anche prima del 24 agosto del 2016 nel cratere avevamo una situazione di difficoltà perché il calo demografico, le difficoltà più in generale del centro d'Italia vanno in questo senso. Ecco, il fatto che la ricostruzione possa avere queste caratteristiche dà l'infa all'idea che possa essere uno strumento per il rilancio complessivo dell'Abruzzo, delle Marche, dell'Umbria e dell'Azio. A noi piace vedere nella ricostruzione una soluzione anche a problemi che non riguardano il sisma ma più in generale gli equilibri di un'Italia che ha bisogno del centro d'Italia perché non c'è organismo che si sappia reggere senza una robusta spina dorsale. C'è stato un grande lavoro di normazione, di programmazione finanziaria poi però si trattava di passare dalle norme ai cantieri e l'immagine dell'ex Ravasco documenta proprio anche le difficoltà di mettere insieme tutto ciò che rappresenta in un ideale mosaico l'elemento da raggiungere ovvero la soluzione, l'immagine finale. L'immagine finale è frutto di uno sforzo importante dell'ASL, della soprintendenza, dell'ufficio speciale della ricostruzione, della struttura commissariale che non più tardi di 48 ore fa ha dovuto ulteriormente integrare una proposta finanziaria usurata dal fatto che l'inflazione in questi anni ha falcidiato quelle che erano le prospettazioni dei prezzi. Quindi un lavoro veramente che assomiglia a quella di un'orchestra che qualche volta capita, possa stonare, ma che complessivamente ha anche una grande serenità istituzionale. Io credo che sia anche un grande aiuto il fatto di aver superato una fase in cui magari tensioni, polemiche potevano essere legittime ma in qualche modo rappresentare anche un'ulteriore criticità. Ecco, l'immagine del Ravasco è l'immagine di una ricostruzione che anche per la parte ASL inizia un tragitto che fra l'altro, lo ricordo, comprenderà ben 25 milioni di stanziamenti complessivi. Quindi io devo dire senza vanità, con i piedi per terra, che però stiamo andando verso l'obiettivo che tutti i terramani hanno diritto di vedere conseguito. In settimana prossima inizierà già la gara d'appalto per questo lavoro e come inizieremo, lo anticipo, affideremo a breve anche l'incarico per la risultazione della casa riposo Campanini di San Domenico di 10 milioni di euro. Stiamo per dare una gara europea per l'affidamento della progettazione. Oramai tutto l'itero è completo anche lì e anche quello sarà un recupero importante voluto fortemente dalla Regione, dal Presidente Marsilio, insieme all'USR e insieme al Commissario per la ricostruzione. Ridaremo anche lì a San Domenico un'importante struttura, come diceva prima il Commissario, faremo interventi anche su Montori Alvomano, su Isola del Gran Sasso, anche su Teramo, altri due interventi su Teramo, che sono importanti per ridare alla città un patrimonio in stato di abbandono. Grazie.